A quanto pare Ripper Roo non è alla tua altezza, ma torniamo a noi. Dovremmo raccogliere molti cristalli, vetti per la precisione. Presto i tredici pianeti saranno allineati, generando un potere immenso in grado di distruggere la Terra. Se usati correttamente però, i cristalli possono contenere questa energia. Crash, sei tu! Ti ho cercato da te tutto. Non ho molto tempo, ma ti volevo dire di fare attenzione. Fidarsi di Cortex mi sembra una bensima idea, Crash. Questo collegamento sta per saldare. Crash, devi trovare...